Sono Lepoldo Lombardi, per il quarto anno faccio parte della giuria del premio Donita e lo faccio con piacere, con entusiasmo, perché credo che sia una manifestazione che oltre a ricordare uno dei più grandi autori, compositori della musica italiana, è una manifestazione importante perché tende a tirar fuori autori e compositori, la musica italiana purtroppo negli ultimi anni vuoi per la crisi, vuoi per tanti altri motivi, anche per il fatto che si tende sempre a scriversi le canzoni da soli, quando invece a volte ci si dovrebbe approvvigionare anche da altri, ha perso molto la categoria degli autori e compositori e questo è un male per tutta la musica italiana. Il premio Donita e Monica Donita che ha con merito fondato il premio e lo sta portando avanti con entusiasmo e in mezzo a tante difficoltà che purtroppo tutta la musica sta vivendo, ha questo grande merito, cioè quello di andare a ricercare in tutta Italia le canzoni e gli autori. credo che questa sia la base del futuro affinché la musica italiana possa continuare a dare emozioni e a contribuire a quello che è la popolarità del nostro paese dal punto di vista artistico nel mondo.